4 gennaio 2019, oggi è venerdì, l'ultimo giorno della prima settimana di gennaio, ancora un weekend di bagordi e poi finalmente tornerà tutto alla normalità. Per oggi abbiamo un complex, dovremo costruire un heavy complex, composto da 3 snatch deadlift, 2 snatch high pull e un power snatch. A seguire, un wrap 3 minuti, 15 o 12 calorie bike e 12 power snatches, 3 minuti di rest, altri un wrap 3 minuti, 12 o 15 calorie bike e 8 power snatches, di nuovo 3 minuti di rest e di nuovo 3 minuti in wrap, 15 o 12 calorie bike e 4 power snatches. Pese e scalature come al solito sulla grafica qui di fianco, vi ricordo che domenica a Torino ci sarà la gara lift and drop, ci vediamo lì per liftare e truppare insieme e vedere cosa succederà agli atleti presenti in gara. Per tutto il resto ci rivediamo lunedì con una nuova puntata di CiproTV. Ciao, buon weekend!